buongiorno eccoci buon di 708 oggi martedì 7 novembre buon ritorno qui sulle frequenze i digital beats non so come si dice con il digitale comunque questa è anche questa radio basta eccoci esatto 9.2 FM streaming da plus app sito ovunque voi vogliate noi ci siamo questo è good morning milano quest'oggi puntata del martedì parleremo come sempre di periferie parleremo di tante altre cose ma soprattutto parleremo anche dei giornali che buon masieri avrà già letto questa mattina vero qualcosina qualcosina infatti mi permetto di dire che già qualcosa che ieri era stato preannunciato è successo ah lasciamo nel è successo è successo è successo qualcosa che ieri avevi preannunciato tu sì ah quindi vedo prevedo non solo io comunque allora lo scopriremo adesso nel corso della nostra rassegna stampa che cosa aveva previsto il buon masieri che è successo in questa mattina e soprattutto dove 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 e cosa 331 78 53 555 il nostro numero di whatsapp ci potete scrivere raccontarci la vostra mattinata come sempre svegliarvi cittici svegliarvi cittici insieme a noi noi insieme a voi iniziamo la mattinata come sempre che ogni mattina a milano un uomo si alza una donna si alza sintonizza cristallo radio e ascolta good morning milano questa è la mattinata dei milanesi buongiorno milano buongiorno a tutti andiamo avanti musica musica maestro analisa arianna ragazza sola bentornati allora qui su good morning milano crystal radio la diretta radio punto sul fm sul dub sulla app il sito e anche invece la diretta video su milano all news e poi potete rivedere tutti i nostri spezzoni su milano news comprese le interviste ai nostri ospiti vi ricordiamo di magari di andare a riprescarvi in questo caso ho usato puoi riprescare proprio perché c'è l'acqua di mezzo l'hanno intervista ieri al comitato novasca di bresso milano bresso perché insomma è interessante capire meglio anche quello che sta succedendo intorno al seveso oggi è il 7 novembre e cosa dice l'almanacco del signor lorenzo 7 novembre inizia striscia la notizia 35 anni fa però se c'è la notizia è più vecchio di te penso e beh anche di tà ma di meno beh insomma però non è che passità 10 anni di differenza ho capito potete prendere uno di 33 anni però me lo ricordo me lo ricordo me lo ricordo sì 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 e gene gnocchi era esattamente come oggi uguale 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 sempre uguale erano gene ed ezio primi due e segreggio gene gnocchi io penso di sì però non ne ho la sicurezza 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 fateci uno squillo e diteci chi erano non c'è Gianfranco D'Angelo potrebbe essere sai Gianfranco D'Angelo che ricordiamo avrà una piazza intestata non mi ricordo a colonia però ricordo che abbiamo dato questa notizia qualche settimana prima del famoso ormai belvedere berlusconi belvedere berlusconi che tra l'altro è il belvedere che è succede che praticamente nel corso di alcuni weekend se non sbaglio viene reso gratuita l'ingresso viene reso gratuito l'ingresso hai capito sì non perché è stato dedicato a berlusconi perché lo fosse già anche prima però se volete andare gratuitamente se non sbaglio sul sito della regione trovate le date potrete potrete dire agli amici a tavola sai quando non sai cosa dire o scopri quella cosa lì che dici no questa la devo dire a tavola la prossima volta potete dire sono andato sul bevedere berlusconi te capi cosa succede poi il segreggio Gianfranco D'Angelo sì ti confermo ti confermo e durava sai quanto durava immagino pochissimo sette minuti la prima versione di strisce la notizia con la regia di Beppe Recchia è un po' come i cinque minuti sai che esiste adesso di Bruno Vespa tra più uguale stessa cosa no per dire che magari che piano piano poi beh che più spazio di così Vespa alla fine fa anche tutte le sere infatti infatti ci manca solo quello però poi cosa succede succede che questo gioco oggi nel no 156 anni fa nasce Marie Curie ah la mia scuola io andavo alla scuola e poi tra i scomparsi oggi ricordiamo Leonard Cohen sette anni fa che hai molti conosciuto per la sua versione di Alleluia sostanzialmente e tante altre cose però principalmente ricordato per quello anche la colonna sondava la prima versione di True Detective se non ricordo male la prima serie di True Detective se non ricordo male hanno preso una canzone di Leonard Cohen e cavolo già sette anni già sette anni insomma manca manca sono qui gli artisti che mancano eh sì 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 invece ahimè non manca mai a quest'ora il traffico il traffico nasce intorno a quest'ora e muore intorno alla stessa ora di questa sera più o meno perché ormai anche in giornata è veramente complicato anzi vi invitiamo comunque sempre ad andare a vedere gli aggiornamenti di Luce Verde anche durante il giorno in questo momento invece lo abbiamo in diretta la situazione del traffico su Milano Luce Verde e questo era Dante insieme a Fabio Rovazzi e a Raff anche insomma liberi liberi Raff è uno di quelli che mi lascia sempre così un po' un personaggio come dire? non lo so un personaggio strano per me non so ma perché? è perché io sono cresciuto quando c'era molte fan di Raff ok cioè era uno che riempiva i bar della provincia non credo no 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 anche i palazzetti anche perché Raff è il classico uomo che sembra che abbia 40 anni invece ne ha molti sì infatti infatti quello quello proprio non mi sono mai appassionato invece avevo tantissimi compagni di scuola che impazzivano per lui quindi era sempre lasciato un postere fatto così non lo capisco vabbè invece le mie compagne sì tantissimo quindi ogni volta che lo ascolto torno indietro alla mente hai gli anni più bui della mia vita quelli della scuola ma non è vero ottimi anni quelli della scuola non tornerai indietro per nessuna ragione al mondo sono un grande fan comunque vogliamo dire cosa abbiamo predictato cosa hai predictato non è una bella notizia però va bene nel senso no però come prevedibile come è anche riportato da svariate da svariate testate di giornali locali alta tensione ieri tra i tifosi del Milan e quelli del Paris Saint Germain per la partita che sono venuti qua a Milano per la partita che si terrà questa sera allo stadio Meazza del gruppo F di Champions League appunto tra le due squadre ah perché è questa sera la partita cioè questi si sono già coltellati ieri sera ma è questa sera esatto e sostanzialmente hai tolto Gindugi si si sono coltellati ieri sera in zona Navigli non è ancora chiaro come hai detto tu attenzione che stasera si rischia il patatrack allora quello l'avevano detto un po' più o meno tutti la questione è che io ripeto sempre che ci sono delle zone calde molto più calde rispetto a altre magari non hanno il nome Quartogiaro ma sono ugualmente se non ancora più calde rispetto a zone più blasonate da quel punto di vista diciamo appunto Vigilia Calda della partita che si terrà questa sera Fuggi Fuggi Generale di Passanti i clienti dei locali sono arrivati e sono arrivate subito dal camionetto della polizia e carabinieri in tenuto antissommosta che hanno riportato la calma un supporter di 34 anni colpito da alcuni fondenti fendenti scusate magari posso dire solo dei fondenti insomma era anche buono se erano dei fondenti invece no ahimè erano dei fendenti speriamo che stasera non succeda niente di che e che adesso però ma si no ragazzi però ebbè purtroppo è così ci sono tantamila persone in uno stadio è chiaro che la sicurezza deve essere adeguata è chiaramente che non è non è che i vigili i poliziotti eccetera possano impedire queste cose cioè possono sicuramente limitare la probabilità che succeda però sappiamo benissimo la gente che va allo stadio con l'intenzione di tifare la gente che va allo stadio con l'intenzione di far casino e poi neanche allo stadio qua appunto erano anche a chilometri di distanza c'è proprio è una scusa è un pretesto quello della tifoseria delle squadre in questo caso ma anche perché credo che faccia male anche al tifo stesso e ai veri ultra quelli invece che sono insomma appassionati realmente di quello sport a questo non ti so rispondi vabbè chiedere al nostro amico Gianmarco Duina che lui è uno molto attento alle dinamiche sportive le dinamiche del calcio popolare come lo chiama lui e delle curve d'Italia anche perché che sono difficili da raccontare perché poi passano sui giornali solo quando c'è l'accoltellamento quando c'è l'affigliazione mafiosa o no per l'avvento dei biglietti insomma io riporto quello che dice Milano Today i supporter parigini erano nei locali di Porta Ticino quando si sono trovati sono trovati davanti gli ultra della curva sud ciò vuol dire che non è che è casualità si tratta di un agguato alla fine e andiamo avanti adesso suono gli NSYNC con Justin Timberlake Better Place Hey Fugees Killing Me Softly che roba vi siete alzati così in questa questa è un po' notturna come canzone lo so però insomma vi ho voluto svegliare con la calma questa mattina e con tutta questa calma siamo già arrivati alle 7.35 nella seconda mezz'ora di programma di Guadalupe Milano in cui il buon Maseri aprirà un altro giornale e ci leggeranno ci leggeranno le notizie che arrivano dalla Milano altre notizie purtroppo non positive non positive non positive perché ieri pomeriggio una donna di 69 anni è stata investita sulle strisce pedonali in centro in zona Moscova sarebbe stata trasportata in codice rosso al San Carlo e da quel momento non sembra che sulle testate locali ci siano aggiornamenti stiamo all'occhio sulle strisce pedonali c'è gente che dicono mi raccomando anche sulle strisce ormai non è più sicuro attraversare scusate la polemica un po' populista però mi viene da dire ogni giorno ormai è vero che è pieno di strisce pedonali a Milano e diamo notizia di una però vorrei vedere se vostre voi quell'uno che viene tirato sotto se siete contenti o no chiaramente è uno dei grandi temi in città la sicurezza stradale in primis che dobbiamo dire troppe macchine in giro i soliti discorsi che facciamo sempre domani sì anticipa sarà con noi Federico del Prete di Lega Ambiente sostanzialmente consulente della mobilità no non della giunta ma della mobilità cioè sì della giunta di Milano della giunta di Milano sulla mobilità sulla mobilità sostenibile esatto sicuramente parleremo di Milano zona 30 parleremo della ciclabile di Monfort di tutte quelle iniziative tipo il No Parking Day vi ricorderete due mesette fa sono sostanzialmente robe detta così cattiva se sono robe fine a se stesse o sostanzialmente c'è un qualcosa di più strutturale che guarderà verso il futuro intanto al 3317853555 arrivano i primi whatsapp del buongiorno e questo mi piace sempre quando ci chiamano arriva da Katia che ci dice buongiorno voci del mattino che bello essere la voce del mattino di qualcuno tu sei la voce del mattino sottovoce piano piano in punta di piedi come piace a noi tu sei la voce del mattino di qualcuno ma no assolutamente io non parlo finchè non vengo qua ed è meglio guarda considerando quello che potrei dire guarda è molto se potessi parlare signora sapesse se mi levassero questo microfono avanti io potrei essere la voce del mattino di qualcuno ma a quell'ora dorme sono la voce del mattino di tutti voi i miei fan miei carissime fan miei carissimi milanesi io sono la voce del vostro mattino e voi volete essere la voce della mia notte no no anzi vi invito a fare come me ossia non parlare finchè non è strettamente necessario ho paura che farà un po' sempre che ha quell'apporto dello studio dopo questa mia uscita vabbè vediamo brevi aggiornamenti anche per quanto riguarda la politica locale perché ieri in serata Giulia Pelucchi presidente municipio 8 8 scusate 8 annuncia con un post che sarà al fianco di Alessandro Capelli fresco segretario del PD milanese come sostanzialmente vice segretaria quindi complimenti a Giulio allora facciamo gli auguri di buon lavoro assolutamente quindi nel PD milanese forte vocazione schlaignana urca perché sai che a livello nazionale sostanzialmente se vinci te poi devi fare vice presidente quell'altro non voglio assolutamente dire niente però succede così e poi magari alla fine poi si crepa cissi la mente perché si chiedono le correnti questo rischio non c'è nel PD milanese non dovrebbe esserci perché entrambi fanno parte diciamo di quella stessa tutti schlaign va bene va bene continuiamo invece con la musica adesso è il momento di Harry Styles Harry Styles è una delle canzoni più belle secondo me in assoluto ma non sentiamo quella ne sentiamo un'altra siamo una brutta no no ne sentiamo un'altra insomma sempre le solite se ti metto signs of the time vabbè dici che palle è sempre quella e invece no invece quest'oggi facciamo ascoltare Golden è sempre lui però dal 2020 eventi Harry Styles Golden Harry Styles è proprio a me piace questo Harry Styles è bravo sai che lui è non sai neanche chi sia no certo che è un cantante ex no non è un frontman perché erano erano quattro frontman cicoli che erano esatto dei One Direction One Direction anche attore attore anche finanzato di Olivia Wilde ah ok è da sottolineare fammi fare un attimo la parte del maschio etero è antipatico cis bianco etero è compagnia bella si scherza però di certo cioè non è niente di questo Masieri non è bianco non è cis non è etero non è simpatico non è alfa soprattutto non è alfa è bello sicuramente questo potremmo ma soprattutto non è alfa su questo siamo sicuri invece di alfa ci sono le moto che sgasano che boom 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 perché arriva Milano che cosa l'EICMA l'EICMA Arò in programma da appunto EICMA non l'EICMA EICMA e cosa ho detto l'EICMA cioè non è come linguine o inguine c'è capito ma è chiaro ma basta sapere l'italiano è una sigla chiaramente Arò da martedì 7 quindi oggi a domenica 12 e per quanto riguarda la mobilità chiaramente come sapete negli ultimi anni anche in tutte queste manifestazioni dove sostanzialmente fino a dieci anni fa boom boom esatto fino a dieci anni fa ma più faceva fumo meglio era adesso invece si parla di elettrico ma di elettrico si parla anche per quanto riguarda la vendita di biciclette biciclette elettriche perché lo scorso anno su un totale di un milione e sette biciclette vendute un milione e sette o settecentomila cioè un milione e sette proprio sette chiediamolo agli amici del giorno Milano no un milione e settecentomila un biciclette ok 350.000 più o meno rientrano nella categoria delle e-bike quindi eletto che è una categoria assistita quella roba lì esatto e la Lombardia diciamo fa la parte del leone appunto sto leggendo il giorno perché nella produzione e nella vendita qui in Lombardia c'è il 27% della prima quindi il 27% della produzione di e-bike è in Lombardia e circa il 20% delle vendite sempre qui in Lombardia l'ombelico del mondo giovanotti stiamo leggendo i giornali caro Masieri se vuoi continuare possiamo tranquillamente andare avanti con le notizie perché questo è Good Money Milano sono le notizie di Milano e tutto quello che succede in comune nella città metropolitana nell'interna insomma nella grande Milano lo raccontiamo tutte le mattine qui dalle sette alle nove esatto quindi sostanzialmente appunto stavamo dicendo inizia l'Ecma ma appunto parlare di elettrico non sarà solamente l'Ecma con le moto ma appunto anche le biciclette che come sapete sempre di più stanno invadendo le strade milanesi in particolare quelle elettriche appunto ricordiamo che appunto la Lombardia fa la parte del leone perché nella produzione qua c'è il 27% del totale nazionale il 27% delle biciclette elettriche prodotte in Italia viene prodotte in Lombardia però e il 20% della vendita in Lombardia quindi a chilometro zero quasi ce le facciamo e ce le vendiamo ce le costruiamo e ce le vendiamo non so due biciclette elettriche su tre prodotte in Italia c'è scritto sono destinate al mercato locale bisogna vedere se noi le importiamo o meno beh altre sì nel senso sicuramente comunque a proposito di mobilità due biciclette su tre sarà una di noi no niente una sopra su cinque sarà una di noi a proposito di mobilità ricordiamo che appunto venerdì 10 novembre è stato annunciato uno sciopero che coinvolgerà le linee ATM proclamato dal sindacato Alcoba se i disagi saranno dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fine a fine servizio quindi sostanzialmente le stesse fasce orarie di ogni sciopero e che quindi avete ben imparato a conoscere è passato Halloween sì da un po' è passato Halloween da un po' e come sai è passato Halloween si parla di Mariah Carey di Mariah Carey e di Natale io qua davanti ho un bel articolo di Milano Today in cui sostanzialmente si elencano i villaggi e mercatini di Natale più belli di Milano io allacciate le cinture no io non lo leggo io non lo leggo ancora io non lo leggo ancora però lo metti tra i preferiti esatto lo metto tra i preferiti nelle raccolte lo tengo lì e quando sarà il momento giù anche perché a dirla adesso comunque non ce n'è uno attivo quindi e quando sarà il momento giusto nella tua testolina caro Masieri dimmi fammi capire per me fine novembre inizio inizio dicembre la questione è che pensa che una volta si iniziava a Sant'Ambrogio Sant'Ambrogio iniziava il Natale cioè durerebbe solo venti giorni neanche oggi ci si fa l'albero però ma c'è la gente lo sta facendo già adesso secondo me io quando torno a casa vedo le luminarie di Dergan eccetera la famosa la Villumier di Milano no vabbè dico ci sono alcune zone che hanno già messo a Cologno-Monzese già le sue luminarie di Cologno-Monzese c'è anche piazza Giammarco d'Angelo all'Appo Municipio ecco all'Appo Municipio che è una cosa positiva c'è poco da ridere perché a me l'Appo Municipio mi piace tanto tu la difendi vabbè il fatto sta che sostanzialmente siamo in inverno sì cioè in realtà no siamo formalmente in autunno però eh no mi è piaciuta questa tua virata oggettivamente siamo in inverno anche siamo in autunno però non è ancora tempo di Natale è tempo però di freddo è tempo di freddo e quindi iniziano i vari articoli sulle aule al gelo dei vari istituti delle varie scuole ovvio ieri era lunedì quindi c'è il weekend nel weekend si sono spenti i risendamenti non si si accendono quasi mai in maniera decente quindi fa freddo la segnalazione è di settimana scorsa quindi non di lunedì l'istituto Marconi al gelo l'istituto Marconi di Gorgonzola da quattro giorni senza riscaldamento quindi poi chiaramente la classica foto degli studenti in aula con il piumino poi sopra loghi dei tecnici eccetera l'istituto tecnico è scientifico è frequentato da oltre 1200 studenti vedi che adesso saranno studenti temperati capito è questo lo scopo è così temprare lo spirito di questi giovani italiani non è quello ormai lo spirito è questo è una sorta di leva obbligatoria fatta prima dell'età della leva andiamo che colpa ne ho fa quintale coez 8 e 12 minuti bentornati qui su Good Money Milano bentornati a Cristal Radio bentornati su Milano News bentornati a tutti quanti è tutto corretto seconda volta di trasmissione sempre qua in diretta in FM 96.2 streaming da plus app sito e se ci volete vedere ci potete vedere sul profilo YouTube di Milano All News vogliamo riprendere un po' con le notizie un po' con la rassegna stampa vai 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 firmati ieri gli ultimi gli ultimi degli accordi diciamo perché sai che quando si parla di queste cose adesso ti dirò le notizie sono sempre molto vaghe degli accordi finanziari sostanzialmente che permetteranno di fare un ulteriore passo avanti nel progetto delle aree Falk quindi siamo nel triangolo sostanzialmente Monza Cologno Monzese Sesto giù di lì giusto esatto sostanzialmente si è al 90% del progetto e si tratta di uno dei progetti più grandi a livello europeo perché il progetto prevede la trasformazione dell'ex puolo siderurgico in un maxi quartiere da 50.000 persone leggo sul Corriere della Sera Milano con la realizzazione di residenze private centri direzionali uffici negozi su terra belghiere una sorta di Milano 2 mettiamola giù così proprio detta male mi piace quando chiamano i centri direzionali uffici uffici infatti cioè sostanzialmente un quartiere un quartiere milanese sì un quartiere milanese esatto e quindi niente ulteriore passo avanti verso questo da 23 anni e un paio di master plan dopo complimenti chi ha scritto questo articolo dice il Corriere della Sera mi piace mi piace nuova svolta sul futuro delle aree fac di Milano 23 anni e due master plan dopo ci ritroviamo al punto di partenza sostanzialmente ci sono nuovi accordi si sta parlando sicuramente di progetti mastodontici quindi da decine di anni ecco certo 23 anni di mobilismo però quello è un altro discorso no hanno fatto i master plan nel frattempo insomma qualcosa l'hanno fatto segnaliamo che ieri a Garbagnate milanese protesta di 52 dipendenti dell'Optotec che è un'azienda leader a livello nazionale nel settore della fibra ottica perché perché appunto i dipendenti hanno incrociato le braccia contro la decisione della direzione di smantellare la sede spostandola in provincia di Brescia a 120 km di distanza da quella amministrativa sostanzialmente infatti Edoardo Barra della Fimcis Milano dice siamo di fronte ad un licenziamento collettivo mascherato da trasferimento eh sì perché voglio dirti a trasferiti a 120 km da casa tua cioè adesso va bene tutto però continua dicendo chiediamo all'azienda di aprire un tavolo di trattativa insieme a Comune e Regione Lombardia per individuare soluzioni occupazionali qui sul territorio per tutti eh sì perché è già tolta l'idea che non possa andare a Brescia capito cioè è già di là non so come dire perché non puoi costringere un privato cioè giustamente anche mi viene a dire a rimanere lì mi viene a dire che sono tutti qui sempre a farsi belli con la responsabilità di impresa Siesare Compagnia Bella al territorio noi che siamo responsabili del benessere di questo territorio cioè quando tutto va bene sono tutti responsabili no? poi appena fai una cosa del genere invece ah no me ne lavo le mani è vero sono un imprenditore devo anche pensare alla mia azienda neanche pensare alla stabilità dell'azienda così dicono ma non pensi alla stabilità dei lavoratori insomma eh sì è questo è un discorso è un tema che dove è garbagnata garbagnata è un tema che in realtà nell'interna milanese si è visto e rivisto e si rivede ancora in tantissimi paesi con questa ricordiamo che i privati seguono il mercato possono fare quello che vogliono più o meno ma sostanzialmente hanno cioè si muovono dentro una cornice statale c'è sempre questo ci sono molti studiosi che dicono che le aziende private non esistono ah perché sostanzialmente effettivamente un'azienda privata si muove in base a cosa non in base alla sua legislatura esatto in base sostanzialmente alle leggi eccetera quindi dice che in minima parte tutte le aziende sono un po' pubbliche mettiamola giù così eh ma si possono fare delle leggi cioè faccio una legge dove non puoi trasferire un'azienda siamo un po' eccessiva assolutamente però magari sicuramente 120 chilometri magari scarso pravi tutte quelle cose lì se non sono già implementate adesso non conosciamo chiaramente a memoria tutto ecco potrebbero essere dei binari sui quali muoversi per evitare situazioni del genere in cui giustamente 50 dipendenti si trovano a incrociare le braccia per evitare di essere spostate in 20 chilometri poi come mi sembra non sono 50 che sarebbe già già se fossero 50 single non so come dire 50 persone singole che vengono spostate già è una cosa che non va bene ma sono 50 famiglie cioè 50 famiglie che vuol dire poi i bimbi a scuola che vuol dire magari la moglie o il fidanzato o la fidanzata o il marito che lavorano in zona sono case magari comprate mutui comprati parenti che lasci sul territorio cioè nel senso non è così facile genitori d'assista ma anche genitori semplicemente di cui andarci a mangiare una bella torta la domenica nel senso è il benessere della vita anche musica musica maestra Purple Disco Machine Something On My Mind Purple Disco Machine Something On My Mind alle 8.21 su Crystal Radio eccoci tornati molto meno con la voce radiofonica no è il nostro Alexo è il nostro Alexo è un sintetizzatore vocale che fa legge i titoli e dice le canzoni ah ok quindi sostanzialmente non lo serve più a niente no no ma la AI ci soppianterà nel nostro lavoro e dirà cose senza senso come noi quindi non serve solamente per fare dire al sindaco i monologhi no 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 in realtà noi siamo già la AI che parla voi non lo sapete ma noi siamo già intelligenza artificiale a proposito di intelligenza non artificiale in questo caso chiudiamo i microfoni Milano questa sarebbe la decisione più consona Milano è una città dove si spende di più in cultura hai capito non si direbbe guardano chi c'è in città no scusate chiedo scusa lo segnala l'osservatorio per Book City Milano tra l'altro manifestazione che tornerà a Milano appunto dal 13 al 19 novembre anticipando alcuni dati che verranno presentati il 9 a Milano infatti si concentra il 25% della spesa nazionale per assistere a spettacoli di teatro lirico il 15% per spettacoli di balletto il 10% per il teatro di prosa il 10% per l'acquisto di libri sostanzialmente a Milano si concentra un quarto della spesa nazionale per l'opera lirica e appunto un decimo per quanto riguarda i libri quindi dati altissimi infatti noi spesso anche con Tamara Malleo parliamo della situazione teatrale a Milano e chiaramente constatiamo un certo friccichio friccicolio del teatro milanese tante realtà in giro tanta gente a cui piace andare eccetera eccetera quindi ricordiamo appunto Milano città di teatro e di teatri cioè tanti teatri a Milano tante le compagnie teatrali che nascono a Milano o che vengono a Milano a cercare un po' di fare la storia del teatro che a Milano si è fatta fin dagli albori quindi insomma è interessante anche vedere come questa tradizione è una tradizione che continua a esistere in questi giorni mi ricordo se abbiamo letto la notizia che c'era anche questo importante incontro nei teatri milanesi dove tu andavi a proporre la tua opera ai vari teatri milanesi che avrebbero guardato e deciso se prenderti un cartellone il prossimo anno tu hai definito una sorta di trailer uno speed dating fatto di trailer fisici al teatro così me lo immaginavo mi pare che si chiami next però non ne ho la sicurità si si next bravo 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 che sei sul pezzo ascolto oltre a parlare ascolto pure hai visto alla faccia di chi dice che non riesco a fare due cose contemporaneamente hai visto ma quello è l'AI l'intelligenza artificiale che ti aiuta una cosa la fai tu l'altra la fa l'intelligenza artificiale e pensa fate tutti e due un gran casino piccolo aggiornamento sulla vicenda dei tifosi e della rissa che si è consumata anzi ieri sera sui navigli sono tre i feriti quanto riporta il Corriere della Sera Milano e uno appunto sarebbe in gravi condizioni il tifoso parigino si rischia sempre il pericolo che essendo gemellati con il Napoli tra le fila dei tifosi del Paris Saint Germain ci siano anche dei appunto dei supporter napoletani che sostanzialmente sono gemellati sono gemellati Napoli per Saint Germain e c'è un odio viscerale nei confronti del Milan da parte del Napoli di entrambe le tifoserie si esatto di entrambe le tifoserie questa cosa di gemellaggi poi un giorno magari me la spieghi bene non so è come quando entri non so al comune di Pero che ti dice gemellato con Fran Burlendutten in Normandia così giusto? si si ok va bene diamo avanti Galap Tenab Bob Marley buongiorno al nostro ospite del martedì buongiorno a Walter Cherubini buongiorno a voi bentrovati abbiamo il sole oggi no dai si 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 sta l'altra puntata eravamo sotto l'acqua invece è spuntato il sole presidente consulta periferia Milano non diamolo per scontato anche se con noi appunto tutti i martedì hai tenuto il conto Walter quanti appuntamenti siamo arrivati più o meno o ti ho fatto perdere il conto qui credo siamo al quinto appuntamento qui ma in totale siamo a 163 puntate 163 puntate 163 volte che mi devo sopportare Walter Cherubini pensa a te e noi mi hanno ancora dato l'amorgino d'oro a lui si a me no pensa è vero ricordiamo farò un esposto al sindaco per questo un esposto e ce ne sono che cominciano a fare esposte una grande un in più in meno tu dici Walter non è che ma è proprio questo il tema secondo me un in più in meno perché centralmente ne arrivano talmente tanti che come si fa a rispondere obiettivamente parlando e quindi si risponde a seconda dell'urgenza particolare e questo è il tema quello della proprio dell'emergenza invece il problema è di approcciare in maniera strutturale strutturale bisogna cambiare qualcosa eh sì e un po' questo è uno dei grandi cavalli di battaglia appunto della consulta per i feri milano una delle battaglie proprio che portate avanti quella di pensare ripensare diciamo la città con un'idea che in realtà non è vostra cioè c'è sempre stata quella del decentramento ma applicata realmente ma direi una cosa noi diciamo abbiamo fatto un'esperienza empirica in questi 18 anni che uno dice vabbè ma che cosa avete fatto in questi 18 anni lasciamo perdere quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto perché noi possiamo dire abbiamo fatto 200 incontri abbiamo promosso più di 800 concerti ad ingresso gratuito così per estremizzare i concetti e in mezzo un mucchio di altre cose il tema di fondo è quello di porre tutte queste cose all'attenzione cittadina perché sul territorio ci sono numerosissime cose e che vengono un pochettino anzi vengono sostanzialmente coperte da i mostri sacri di Milano possiamo dire il Duomo di Milano il Teatro alla Scala il Cenacolo e quindi si va verso la città diciamo così attrattiva da un certo punto di vista abbiamo sperimentato invece proprio facendo i concerti i temi della burocrazia come fare o non fare un concerto nel momento in cui per fare un concerto in una cascina comunale con alcuni violini con i giovani per far conoscere la cittadinanza il territorio anche agricolo milanese e ti chiedono il planometrico in tre copie sottoscritto da un professionista e non lo fai più non fai più le iniziative per fortuna qualcosa sta cambiando per fortuna almeno i PITS queste piccole iniziative vengono un po' incontro anzi proprio a queste realtà che hanno difficoltà giustamente a dover fare i planimetri e le certificazioni e tutto vengono sostanzialmente individuati dei luoghi per fortuna e lo dico io nonostante complimenti a Gaglia Romani che ha fatto questa iniziativa ma ancora un po' poco o meglio giustamente i milanesi chiedono di più ma bisogna partire o da una lettura del singolo problema e allora io cerco di rispondere a quel singolo problema l'iniziativa delle PITS è stata sicuramente importante perché perlomeno a chi fa determinate cose ha dato un minimo di situazioni il numero di richieste è altissimo ancora cioè continuano ad arrivare tantissime richieste per i PITS tra parenti soprattutto molto bella come scelta quella di far sì che le richieste ai PITS non badano ai vigili urbani o al centrale ma ai municipi finalmente che sanno e hanno il pulso la situazione su cosa è il proprio territorio allora si tratta di leggere in maniera organizzativa la città e quindi configurare uno scenario diverso ma alla luce di che cosa non di una teoria estratta di tutta una serie di pratiche che si muovono e quindi alla luce di una realtà che c'è cerco di dare una risposta anche normativa organizzativa e anche cerco di cambiare questa normativa perché se noi continuiamo a mantenere delle normative che hanno creato i problemi è abbastanza difficile che noi risolveremo i problemi applicando quelle normative che li hanno creato sembra un po' una tautologia ma è esattamente questo il tema noi continuiamo ad approcciare problemi applicando normative che magari sono state tralaticiamente recuperate da altre situazioni messe lì a governare un determinato processo organizzativo che vuol dire fare iniziativa e sì ma non c'entra niente con l'iniziativa che voglio fare perché hai recuperato una regola che faceva la normativa per un altro settore ecco per cui si tratta di leggere la città e leggere in maniera comune per questo avvieremo appunto da riprenderemo meglio dopo il periodo del covid quella che abbiamo chiamato a scuola di periferie nonostante questo le iniziative vengono fatte poi appunto nella città comunque c'è chi si da da fare le cose le fanno come ad esempio appunto la consulta che promuove questa scuola di periferie a scuola di periferie a scuola di periferie perché ha un sottotitolo per una città policentrica per una milano policentrica perché se noi vogliamo andare verso la città policentrica non è che possiamo andare avanti ad affermarla come petizione di principio andiamo verso la milano policentrica abbiamo capito ma come si va verso una milano policentrica e poi qual è la realtà che dovrebbe diventare policentrica per quello a scuola di periferie perché se non si conoscono le periferie non si conosce la bici delle periferie non si sa come sono articolate non si sa che c'è Assiano non si sa che c'è Basmetto non si sa che c'è Cavriano ma che risposta mai vogliamo dare daremo sempre delle semi risposte qualche iniziativa qualche sperimentazione qualche fiore all'occhiello la sperimentazione noi abbiamo detto che la periferia articolata è in 166 toponimi diversi fazzoletti di terra più o meno grandi diversi va bene noi facciamo una sperimentazione in quartiere diciamo ah sì abbiamo fatto un'iniziativa nelle periferie sì in uno di questi fazzoletti di terra e gli altri 165 per cui ci deve essere proprio un approccio completamente diverso una struttura organizzativa diversa da cui il decentramento è il cuore del tema dal punto di vista amministrativo insomma le bisogna capirle ma soprattutto studiarla a questo punto le periferie appunto come dici tu Walter periferie che sicuramente cambiano negli anni quello che una volta era periferia non lo è più quello che poi lo diventa ritorna a essere appunto centrale o alcun altro appunto quando c'erano i comuni ogni comune aveva il suo centro e la periferia era altro no e beh c'è una canzone secondo me che racconta molto bene che è l'evoluzione comunque di questa città e lui è Adriano Celentano con il ragazzo della Via Glucca andiamo a ascoltarla adesso alle 8 e 42 minuti qui su Crystal Radio sempre all'interno di Good Money Milano torniamo fra poco con Walter Cherubini il ragazzo della Via Glucca Adriano Celentano 1966 continuano a costruire case e non lasciano l'erba basta non aggiungo altro cioè potrebbe essere stata scritta ieri questa canzone antesignano del non consumiamo il suolo eh sì non consumiamo il suolo poi è chiaro che gli aveva risposto anche Giorgio Gaber con una canzone della serie vabbè ma allora io dove vado ad abitare e questo qui è un altro è un altro aspetto poi c'è anche come bella la città ma come grande la città cantare a Gaber insomma da alcuni autori cantanti sicuramente c'è ci sono degli spunti di riflessione ma che devono diventare introduzione amministrativa ti interrompo solo un secondo per dirti che però queste scelte musicali vengono premiate perché appunto è arrivato un bellissimo whatsapp che ci ringrazia al 331 7853555 dice un saluto a Fabio e Lorenzo grazie per trasmettere anche i brani musicali un po' più vecchi e quindi diciamo vecchi ma intramontabili gli Evergreen qui su Crystal Radio ed Evergreen e anche Walter Cherubini che insomma la questione la si porta avanti da un po' di anni la si porta avanti sempre però guardando non al passato ma anzi guardando a un futuro possibile per la nostra città e anche a dei eventi che appunto ci saranno nella nostra città giusto? ma se direi perché il tema grosso è un pochettino c'è un equivoco le periferie si spostano noi le periferie si spostano se associamo a periferia il tema del degrado allora nel momento in cui io rissano una situazione degradata posso dire lì non c'è più periferia ok questo questo è un contraltare che io mi accorgo che c'è periferia quando c'è degrado e quindi cioè quando i buoi sono scappati allora noi dobbiamo partire da una concezione urbana e cittadina non stiamo parlando delle periferie sociali esistenziali mondiali stiamo parlando di una utilizzo di un'accezione del termine periferia che è quella delle periferie urbane cioè quando nei confini di una grande città o medio grande Milano una metropoli ma medio grande allora la periferia è esattamente quella che si è costruita Milano cento anni fa dal punto di vista amministrativo quando sono stati cancellati gli undici comuni che gestivano i relativi territori e quindi Baggio Afori Chiaravalle Milanese e gli altri seguenti e quello lì è diventata la periferia amministrativamente parlando perché tutto è stato spostato in centro cioè in piazza della Scala e da lì si è guardata la città è chiaro che c'è una città centrale e una città periferica una città periferica che però ha i suoi lati positivi perché ci sono situazioni e socialità forti e può avere i suoi lati negativi come i quartieri popolari che sono una concentrazione di fragilità è chiaro che se io metto nei quartieri popolari tutte le fragilità di questo mondo che cosa volete che nasca lì così la fragilità se poi ci sono anche i prepotenti è chiaro che c'è il disastro sociale allora la periferia non è che si sposta si risolve proprio in una logica di città policentrica se abbiamo un'amministrazione policentrica cioè dare attuazione a quei regolamenti a quell'idea del 68 69 che restituiva l'amministrazione alla città i municipi come sono adesso lo dicono tutti sarebbe quasi da chiudere invece magari invece dargli qualche potere in più o qualche delega in più potrebbe risolvere appunto il problema dovrebbero avere la visione complessiva del loro territorio dove ci sono tantissime funzioni comunali che operano una scollegata dall'altra però Valter non credi che il problema nasca anche nel momento in cui usare la parola periferia per alcuni diventi quasi una parolaccia nel senso non c'è più le periferie ci sono i quartieri si usa questo nuovo modalità di storytelling prima dicevamo c'è Nolo ma se succede qualcosa di brutto diventa Via Le Monza cioè non è non rimane Nolo le cose belle succedono a Nolo le cose brutte succedono a Via Le Padova e Via Le Monza che però è sempre comunque Nolo com'è questa storia? ma perché c'è una distanza dalla realtà allora perché io posso fare l'iniziativa di Nolo è un'iniziativa anche interessante cerco di combinare qualcosa di positivo ma se poi io comincio a interpretare Nolo come la risposta a Via Padova vuol dire che non ho conoscenza di Via Padova a parte il fatto che Via Padova è lunga 5 km e quindi c'è di tutto di più da questo punto di vista qui ritorno però a quanto accaduto un po' di anni fa eravamo ancora sotto l'amministrazione del sindaco Moratti e ci fu un episodio di Cronaca Nera con l'uccisione di una persona in Via Padova e da lì si fece un'iniziativa il comune in particolare mettendo insieme tutta una serie di direzioni e di competenze proprio per cercare di affrontare Via Padova ecco il tema che allora noi ponemmo in un incontro diciamo propedeutico a scuola di periferia fu ma perché mettiamo insieme queste tutte queste diciamo così competenze cittadine funzioni cittadine in una maniera emergenziale perché a questo punto non lo facciamo in maniera strutturata in tutta quanta la città perché questo qui sarebbe il modo per affrontare sul nascere i problemi invece di rincorrerli la struttura organizzativa che oggi noi abbiamo sono i municipi ma i municipi che oggi abbiamo con tanto di assessori gli assessori dei municipi non sono gli assessori dei comuni limitrofi molto più piccoli come dimensione sia territoriale sia di abitanti è cambiata solamente la denominazione dopodiché gli assessori se vogliono fare qualcosa sul loro territorio addirittura se vogliono parlare con le funzioni presenti sul territorio devono andare dai rispettivi assessori direttori generali è chiaro che questa struttura organizzativa non funziona per quello a scuola di periferie uno dei punti significativi sarà sicuramente quello di una riflessione e anche un tentativo di proposta sul decentramento e sui municipi questo però cercando di mettere insieme tutta una serie di sensibilità che ci sono sulla città abbiamo fatto dopo la pandemia una serie di incontri in vari posti di Milano e appunto abbiamo colto un'esigenza diffusa che però non riesce a trovare una sintesi cittadina e quindi anche un'interlocuzione cittadina quindi la scuola di periferie vuole proprio mettere insieme queste mettere insieme in un lavoro in uno studio ma a partire da un'esperienza in atto che qualcuno fa sul proprio territorio ma dandogli una visibilità cittadina perché se non si ha visibilità cittadina si fanno tante belle cose che però spariscono e non riescono nemmeno a essere di insegnamento al resto della città questo è il tema noi abbiamo tante cose che potrebbero essere insegnate e copiate dalle altre parti delle città ma siccome per la dinamica milanese non si conoscono e quindi rimangono lette e romerto e sono tutte occasioni perse siamo quasi la fine dobbiamo già chiudere hai qualche appuntamento veloce da darci hai un minuto cinquanta brevissimamente allora abbiamo in questo percorso verso il centenario degli antichi comuni milanesi che si chiuderà formalmente con il 13-14 di dicembre abbiamo tre appuntamenti uno è oggi pomeriggio al Camp delle Gabelle che è un seminario dai borghi alla città dalla città agli studenti dopodiché abbiamo invece venerdì 10 presso la biblioteca gallaratese la presentazione del nuovo libro di Edo Bricchetti sui corpi santi storie e storie del comune che circondava Milano e invece abbiamo sabato 11 alle 15.30 presso il centro ambrosiano di solidarietà di via Marotta 8 dove ci sarà un incontro sul centenario Lambrate e gli 11 comuni diventano periferia sono questi tre appunti appunto di domanda la risposta c'è sì gli 11 comuni cento anni fa sono diventati periferia infatti il 14 dicembre le periferie milanesi compiranno cento anni cento anni buon compleanno periferie grazie mille Walter e potete anche riascoltare appunto come dicevi tu tutto quanto dal sito di Milano News ma anche tutti i nostri ospiti voglio andare a ritrovare le interviste dei giorni scorsi o anche l'intervista appunto di oggi a Walter Cherubini trovate tutto intorno alle 10 già trovate tutto sul sito quindi insomma avete tutta la giornata sui vari social per condividere quello che volete quello che volete anche la puntata di ieri in particolare per quanto riguarda l'intervista al comitato Novasca perché se ne parla e se ne parlerà e se ne parla bene attenzione attendiamoci qua sempre buona giornata a tutti allora buona giornata ci sentiamo domani sempre diretta dalle 7 alle 9 Cristal Radio questa è Good Morning Milano lui e Lorenzo io sono Fabio e vi ringraziamo per la vostra compagnia ciao ciao a domani buona giornata a tutti